L'8 dicembre come giornata regionale del divertimento in sicurezza. È la proposta fatta alla Regione Marche da parte del Comune di Fano ed il cui obiettivo è quello di commemorare i fatti accaduti l'8 dicembre 2018 alla Discoteca Lanterna Azzurra. Un percorso condiviso con la Polizia Locale e con l'Associazione Cogeu, composta dai genitori che si sono riuniti all'indomani della tragedia di Corinaldo, dove persero la vita cinque ragazzi minorenni ed una giovane madre. Abbiamo raccolto come Comune di Fano la loro richiesta di dare dignità e anche di coinvolgere le istituzioni sui fatti che non debbono essere dimenticati, che hanno coinvolto pesantemente anche il nostro Comune e che debbono servire ad ammonito per azioni future e che devono essere messe in campo per la sicurezza e il divertimento dei più giovani. Un'opportunità per le istituzioni in occasione dell'8 dicembre, nel caso la proposta dovesse passare, di approfondire la tematica della sicurezza dei giovani, permettendo un divertimento più sicuro per scongiurare e ripetersi di simili tragedie. Il Sindaco si è preso la responsabilità di condividere questo atto di indirizzo anche con altre amministrazioni, altri comuni che possono con noi condividere questa richiesta e rendere ancora più forte e condivisa la richiesta alla Regione Marche, comuni che hanno condiviso con noi anche il dolore e il lutto.